Siamo nati a febbraio, la nostra associazione è un'associazione socioculturale di promozione del territorio, il suo nome è Riscoprendoci. Partiamo da quelle che sono le radici con l'intento di far rivivere nella cittadinanza sanseverinese l'interesse per il passato, però con un focus particolare sul presente. Infatti, come le dicevo, siamo un'associazione socioculturale di promozione del territorio, volta una particolare attenzione all'ambito storico, artistico, culturale e soprattutto ambientale e sociale. Siamo quindi volti sicuramente a quelli che sono i problemi e gli interessi del presente e del futuro della cittadinanza senza servire nei suoi.